Nuovo momento che il titolo è Generazione Z e avremo in nostra compagnia Massimiliano Secchi che è fondatore e presidente dell'associazione Niente Scuse Onlus e campione di giochi elettronici tra l'altro anche lui è stato già ospite di un WeFree e ha ottenuto uno straordinario successo devo dire che i ragazzi erano stregati e poi capirete perché e con me ci sarà anche Giuseppe Lavenia che è psicoterapeuta, presidente di TE, associazione nazionale dipendenze tecnologiche autore tra l'altro di un libro bellissimo che si intitola Voglio il cellulare, edito dalla Mondadori io l'ho letto in un batter baleno e devo dire che lo consiglio sia ai ragazzi che ai genitori e ai docenti perché il tema è quello del cellulare ma in realtà il libro è strutturato proprio come libro doppio quindi si legge da una parte e dall'altra, da una parte è indirizzato agli adulti e dall'altra è indirizzato ai ragazzi ma all'interno, al di là del parlare del cellulare, ci sono tantissimi esercizi che sia gli adulti che i ragazzi possono fare perché in realtà il tema del Voglio il cellulare non riesco a dire di no a mio figlio nasconde qualcos'altro che possono essere fragilità, paure, ecco e ovviamente Giuseppe Lavenia da psicoterapeuta spinge i grandi e i bambini a porsi delle domande mi fanno ok dalla regia, io vi ricordo sempre che tengo il cellulare perché mi arrivano su Whatsapp le vostre domande spero che le facciate in modo tale da poterle rivolgere ai nostri ospiti e quindi dovremmo, ecco abbiamo in collegamento Massimiliano e Giuseppe Lavenia grazie di essere qui con noi dall'altra parte della telecamera ci sono tantissimi ragazzi sono 3000, più adulti, studenti, stanno arrivando molti messaggi da tutta Italia di persone che stanno seguendo allora, fate sentire la vostra voce così sono sicura che riusciamo a parlare buongiorno Massimiliano ciao, buongiorno perfetto, ti sento, buongiorno Giuseppe buongiorno, buongiorno perfetto, il collegamento funziona io comincerei proprio da Massimiliano Secchi e comincerei dalla passione per i giochi elettronici cioè quando è nata questa passione e soprattutto visto che siamo di fronte a dei ragazzi ma tu insomma conosci bene il tuo mestiere soprattutto conosci questi ragazzi che stanno guardando come fargli capire che sì, questa è una passione quando non bisogna andare oltre e farla diventare una dipendenza altrimenti i poveri genitori quando i ragazzi tornano a casa ok, allora, come è nata? è nata perché quando avevo 4 anni i miei genitori mi hanno regalato il primo computer per fare in modo che io potessi poi a scuola scrivere come tutti gli altri perché non si sarebbero mai immaginati che io avrei imparato o potessi imparare a scrivere con le braccia o con il piede e allora mi hanno regalato il primo computer nel 1990 e come ogni bambino in realtà lì ancora i videogiochi non erano una cosa rodata come adesso ma impari giocando e allora c'era un gioco che in tanti secondo me ricorderanno che si chiama Prince of Persia e con il grande verso il quale io ho passato veramente la fase dell'imparare a usare il computer ma anche imparare a dover staccarmi dal computer perché in realtà passavo ore e ore a giocare quella dei giochi è sempre stata una grande passione che poi ho coltivato anche oltre quello che poteva essere l'utilizzare il computer chiaramente per raggiungere l'indipendenza al punto che in realtà crescendo e diventando sempre più bravo ci sono stati periodi della mia vita dove ho giocato per tante ore di fila ma veramente anche troppe ore di fila direi oggi questo perché inizialmente quando mi sono affacciato al mondo degli esports per me era motivo di orgoglio poter dire voi giocate con dieci dita io ho queste e con queste devo riuscire a schiacciare i dieci tasti che voi potete schiacciare con le mani e quindi dovevo essere più veloci dovevo essere più intuitivo per riuscire a spostare il gomito in un tasto che sarebbe stato più funzionale all'azione che dovevo compiere e fino a quando ero a livello degli altri nessun problema ero benvoluto da tutti mi chiamavano per entrare nei server per giocare fino a quando non ho iniziato a diventare più bravo degli altri e lì sono iniziati i problemi perché quando ho iniziato a battere determinati record è iniziato anche il bullismo e quindi prima ero max poi sono diventato lo storpio l'handicapato e chi più ne ha più di me più ne metta e questo inizialmente mi ha destabilizzato non poco perché comunque era l'età dell'adolescenza un periodo in cui non avevo una carrozzina motore quindi non potevo muovermi in autonomia non potevo vivere la vita che tutti i miei coetanei riuscivano a vivere e della quale potevano gioire e quindi quello dei videogiochi per me era anche uno sfogo in qualche modo ma da lì in realtà poi ho imparato tantissimo ma magari ne parliamo adesso col tempo comunque questo è come è nata la passione per quanto riguarda il giocare troppo devo dire che non sono stato un grande esempio del darsi dei limiti perché quando mi preparavo per battere record al mondo sono riuscito a giocare per 19 ore di fila il punto è no no purtroppo c'è stata un'interferenza non abbiamo sentito 19 ore non lo ripeto facciamo che di sempre esatto sì ho giocato tanto ho giocato però non riesco a dirti troppo non riesco a dirti troppo perché è stato un momento della mia vita fondamentale per capire quale fosse poi la misura giusta ok quindi io credo che al di là del fatto che fosse chiaramente un tempo estremo di gioco senza mai staccarti dal computer di preparazione era una cosa molto molto intensiva allo stesso tempo mi ha insegnato tantissime cose quindi come fare a aiutare i propri figli a staccarsi dai videogiochi sicuramente non proibendo di usarli ma facendo capire in che modo poter provare le stesse soddisfazioni la stessa energia la stessa gratificazione con azioni diverse a questo proposito Massimiliano diciamo che la tua domanda la giro allo psicoterapeuta chiaramente quindi a Giuseppe Lavenia quindi come capire qual è il limite come stabilirlo come imporre delle regole a casa e come rispondere alla domanda che penso qualsiasi genitore qualsiasi adulto si è sentito fare da quando i bambini hanno imparato credo a parlare ormai e cioè voglio il cellulare beh intanto intanto buongiorno Massimiliano io lo porterei sempre con me perché è quello che dico da anni e condivido da sempre cioè che in qualche modo giocare è importante è un'attività importante per lui è stata probabilmente funzionale anche per uscire da alcune situazioni dove era in difficoltà e spesso il gioco è anche questo ci permette di evadere di avere uno spazio nostro poi lui è riuscito a trasformare in positivo questa cosa quindi ha fatto un grandissimo passaggio un grandissimo sforzo e che gli ha permesso di raggiungere anche gli obiettivi sicuramente importanti è chiaro che una passione non deve diventare una compulsione il vero passaggio è proprio questo cioè quando diventa dipendenza ok? se vogliamo rimanere su questo termine poi ritorno sulla domanda anche rispetto al cellulare diventa una dipendenza qualunque gioco i social tutto quello che può essere collegato diciamo all'attività in questo caso parliamo di un gioco di un'attività ludica può diventare dipendenza quando diventa compulsiva cioè quando io mi rendo conto che ne sto abusando ma non riesco a smettere e probabilmente un po' tutti abbiamo la consapevolezza di andare oltre quando ci rendiamo conto di essere andato oltre di aver perso il controllo è lì che dovremmo intervenire quando iniziamo a renderci conto di aver perso tutto anche tutte le relazioni sociali però ripeto non va mai tolta la tecnologia quindi quello che ha detto Massimiliano è corretto cioè non bisogna togliere anzi per lui probabilmente è stata la sopravvivenza quindi prima di togliere i genitori devono informarsi di cosa stiamo parlando io dico sempre cari genitori chiedete ai vostri figli come va la loro giornata e come va la loro giornata online perché metà della loro vita e i ragazzi la passano online quindi bisogna informarsi di quel mondo lì anche dei giochi perché a parte che parlare di giochi Massimiliano me lo confermerà sarebbe questo momento veramente riduttivo ma anche tutto quello che è voglio il cellulare tanto ti ringrazio per la presentazione del libro ma voglio il cellulare i ragazzi è normale che vogliano il cellulare anch'io l'avrei voluto chi è che non lo vorrebbe è chiaro che il genitore deve essere anche consapevole che ci sono dei rischi all'interno della tecnologia c'è un qualcosa di importante da conoscere anche per i ragazzi è importante sapere che ci sono delle applicazioni che possono creare dipendenza ad esempio i social ad esempio la messaggistica perché attivano un processo nella nostra testa che si chiama dopamina che è una sostanza che si attiva quando siamo in attesa di una risposta cosa vuol dire? si attiva questa sostanza che poi rilascia le endorfine che ci fanno stare bene ecco questa sostanza è la stessa sostanza che si attiva quando si usa una sostanza come la cocaina o nel gioco d'azzardo patologico quindi provate a pensare ogni volta che voi fate un post attendete una risposta e lì si innesca questo processo dopaminergico quindi una sorta di meccanismo della ricompensa e qui si attiva la conclusione quindi il genitore deve saperlo deve essere consapevole poi dare il cellulare troppo presto sicuramente espone i rischi quindi nel libro per esempio cosa consiglio? consigliavo consiglio di fare una sorta di contratto io prima di darti lo smartphone voglio vedere se sei pronto ma io non l'ho impostato solo per i ragazzi vediamo se i ragazzi siete pronti perché molto spesso i ragazzi sono pronti ma tu genitore sei pronto a gestire il tuo figlio con lo smartphone o lo vuoi usare solo per controllarlo ecco questi sono i temi che io cerco di portare avanti per la consapevolezza poi del digitale perché il digitale è questo bisogna ripeto nessuno darebbe e questo so che ci sono tante scuole anche collegate no? introduciamo l'educazione digitale introduciamo l'educazione civica digitale coinvolgiamo i genitori in questo processo educativo perché è fondamentale perché io francamente mi sono anche stancato di essere contattato quando capitano cose tragiche io di solito vengo contattato quando ci sono brutte notizie ahimè in questo caso no e sono felice di essere qui con voi però in generale come nel caso ahimè del ragazzo campano o del fenomeno del blue whale tutte le situazioni diciamo che hanno portato poi alla morte di qualche ragazzo ecco io penso che bisogna fare prevenzione bisogna fare educazione al digitale come bisognerebbe riparlare di educazione ai sentimenti perché la tecnologia si basa sulle emozioni e invece noi dobbiamo ritornare al sentimento che è qualcosa di più importante mi taccio no no è interessantissimo quello che sta dicendo tra l'altro appunto l'educazione proprio al sentimento l'avevano proposta anni fa già alle scuole elementari ma non credo che sia stata inserita nei programmi sull'educazione civica l'abbiamo recuperata quest'anno speriamo che prossimamente arriveremo anche all'educazione civica digitale ritornerei da Massimiliano Secchi perché abbiamo detto che appunto è fondatore presidente dell'associazione niente scuse Ollus che cos'è? l'associazione è una branca del mondo non excuses io da anni ormai mi occupo di aiutare le persone a essere felici partendo dal riconoscere qual è la loro unicità e prendersi la responsabilità di vivere con uno scopo più grande di quello che troppe volte purtroppo ti dà la società è frutto di un vissuto un vissuto in cui per troppo tempo ho subito il pietismo delle persone ho subito i pregiudizi delle persone fino a quando non ho capito che in realtà tutto ciò che stessi vivendo e che ho vissuto fino a quel momento aveva un senso ma quel senso potevo darglielo soltanto io e quindi attraverso l'associazione vogliamo aiutare i ragazzi a rendersi conto di quanto attraverso la loro unicità loro possano essere e fare la differenza nel mondo capendo intanto chi sono capendo chi vogliono essere a prescindere da quelli che possono essere i condizionamenti che arrivano dalla famiglia dalla scuola dalla società dalla tecnologia da tutto ciò che è all'esterno ma imparando a riascoltare quella vocina che da quando siamo piccoli ci comunica chi siamo ci dice qual è la strada che ci può rendere veramente felici ma che noi troppe volte non siamo abituati ad ascoltare Quali sono le domande che ti pongono i ragazzi o meglio più che le domande il disagio che ti mostrano i ragazzi o ti comunicano i ragazzi quando fai gli incontri si sentono capiti o si sentono più etichettati Ma questo bisognerebbe chiederlo a loro credo che se si sentissero etichettati non farei questo lavoro e non avrei incontrato così tanti ragazzi ma io credo che la chiave in realtà per far sentire i ragazzi capiti sia tirar fuori ciò che noi abbiamo vissuto realmente cioè troppe volte quando si parla con i ragazzi ci si mette in una posizione di chi deve insegnare loro qualcosa invece io vado per condividere e tra l'insegnamento e la condivisione c'è una grandissima differenza perché se io mi metto al tuo livello io sono disposto anche a imparare da te io non ho limiti non ho paura che tu vada a scomodare una parte di me che io non voglio mostrare e soprattutto io non voglio far vedere ai ragazzi la perfezione voglio far vedere l'autenticità di una vita che per tutti noi non è facilissima perché ognuno di noi ogni giorno incontra mille difficoltà quindi voglio aiutare a liberarsi da questo concetto di perfezione che in realtà è nella nostra testa e riuscire a capire invece l'importanza della felicità dell'essere se stessi del vivere secondo le proprie passioni e quindi chiaramente quando inizi a parlare di videogiochi quando inizi a parlare di relazioni quando inizi a parlare di vita vera lì crei un rapporto a livello superiore ci sono due domande allora una da Samuele Arianna dell'alberghiero di Assisi per la Venia le è mai successo di non riuscire a portare a termine dei casi difficili? beh sì io dico sempre è impossibile salvare tutti o aiutare tutti non si possono salvare non si possono aiutare tutte e tutte le persone è sempre difficile perché poi bisogna vedere se c'è il supporto della famiglia quanto è grave la situazione io cerco di impegnarmi al massimo cerco anche con l'associazione di dare il contributo importante per cercare di aiutare più persone possibili il vero problema molto spesso sono le situazioni più gravi sono le situazioni di isolamento sociale quello che viene chiamato i kikomori i ragazzi che si autorecludono a questo bisogna un attimino stare attenti magari prestare più attenzione soprattutto noi adulti perché l'isolamento sociale come dire in questo momento faccio una provocazione si parla tanto dell'isolamento e il distanziamento sta portando l'isolamento l'indossare la mascherina il vero distanziamento sociale l'autodistanziamento sociale è lo smartphone probabilmente è quello che porta il distanziamento sociale se noi non prendiamo consapevolezza e iniziamo a ragionare su come si deve utilizzare questo strumento quindi Samuele e la ragazza mi ricordo il nome Arianna Arianna sì noi cerchiamo di aiutare più persone possibile non sempre ci si riesce ma noi cerchiamo di farlo è importante il supporto anche della molto molto importante il supporto anche della famiglia o di chi ci sta vicino c'è un'altra domanda di Sofia chi vuole rispondere fate voi qual è il confine tra sport e dipendenza dalla tecnologia ovviamente immagino che si faccia riferimento appunto ai giochi elettronici evidentemente Sofia è un'appassionata di giochi elettronici suppongo vai Massimiliano vai se posso aggiungere una cosa rispetto a quello che hai detto prima è vero che nessuno di noi può aiutare tutti ma credo che in questa affermazione ci sia anche una grandissima finestra piena di luce che è il fatto che ognuno di noi in realtà può aiutare se stesso e che tante volte aspettiamo molto l'aiuto esterno da un professionista senza renderci conto che il motivo per il quale il professionista non può arrivare fino a un certo punto è perché noi non glielo permettiamo ma che nel momento in cui noi ci impegniamo in quel senso e ci apriamo e ci impegniamo per pensare e agire in un modo diverso nessuno realmente può perdere le speranze tutti abbiamo la speranza di poter migliorare la nostra vita era una cosa la quale tenevo tanto proprio perché secondo me è fondamentale che questi ragazzi capiscano perché io per primo ecco diciamola tutta perché io per primo tante volte ho pensato che nessuno potesse più aiutarmi e a un certo punto ho perso la speranza fino a quando non ho capito che in realtà stavo riversando la mia speranza nel posto sbagliato perché in realtà dovevo prima credere io di poter cambiare e poi farmi aiutare da qualcun altro per acquisire gli strumenti affinché il cambiamento venisse ecco questo volevo condividere a questi 3.000 ragazzi non volevo perdere l'occasione no è assolutamente ragione ti aggiungo dobbiamo però avere la voglia non il desiderio di andare avanti in questo momento durante il lockdown per esempio il 40% dei ragazzi nella ricerca che abbiamo condotto ci ha detto che non desidera più nulla non riesce a immaginare un futuro ecco dobbiamo immaginarlo in futuro dobbiamo sostenere l'idea che il futuro è positivo anche noi adulti dobbiamo ritornare a parlare ai ragazzi che fuori non c'è solo il male c'è anche tanto bene si può stare bene e forse su questo bisogna fare un gran lavoro perché altrimenti a me e me avremo una situazione difficile nei prossimi anni legata alla salute mentale che spesso viene sottovalutata perché il distanziamento l'essere lontani non desiderare non progettare continuare a dire ai nostri figli che fuori è brutto fuori è pericoloso li porterà nel tempo a pensare che è meglio stare in casa magari dietro uno schermo ecco lo schermo può essere funzionale in una situazione di emergenza può essere funzionale per giocare può essere funzionale per magari iniziare a creare anche delle relazioni ma poi dobbiamo fare esperienze concrete dobbiamo ritornare a desiderare avere voglia di fare le cose è chiaro che deve partire sicuramente da noi condivido che quello spazio lì dove non ci si può dove il terapeuta chi vi vuole aiutare non può arrivare è proprio perché una parte fondamentale ce l'ha la persona deve essere lui forte e avere l'energia e la necessaria energia per fare quel salto di qualità quindi condivido appieno quello che ci ha espresso la domanda di Sofia però se volete potete continuare rispetto a questo domanda io credo che la risposta sia la scelta cioè qual è la differenza tra il sport e dipendenza la scelta ma quando io sceguo consapevolmente di giocare e so che posso anche scegliere di non giocare senza stare male senza effettivamente sentirmi ingabbiato nel doverlo fare a quel punto può essere sport nel momento in cui non mi ho più il controllo a quel punto credo che mi servisse la prossima più giusta per continuare la frase ma ti aggiungerei ma ripeto forse la compulsione quando io vivo qualcosa e lo vivo male magari Massimiliano tu mi puoi confermare tu c'è stato un momento della tua vita dove giocavi perché magari non volevi pensare magari ad altro non volevi uscire da alcuni schemi quindi il giocare lo vivevi male sapevi che stavi giocando magari anche troppo ma non aveva senso smettere e in tanti altri può capitare invece che questo tu in qualche modo Massimiliano hai preso atto in un certo momento hai detto è successo qualcosa e da lì ho preso consapevolezza che dovevo investire investire in altro a volte la regola della dipendenza della tossicodipendenza è la perdita del controllo io devo riuscire a comprendere se appunto è una passione un divertimento un'attività ludica o diventa qualcosa di invalidante quindi mi toglie qualcosa se inizio a togliermi qualcosa qualcosa di importante e non riesco a farne a meno allora è una compulsione quindi ci dobbiamo fermare a riflettere non è semplice c'è il passaggio sicuramente è al limite e i genitori servono anche a questo vi interrompo un attimo perché il tempo sta per scadere ma stanno arrivando tantissime domande allora a parte il fatto che ci sarà occasione magari ve le girano così potete rispondere però ecco almeno questa di Giorgia ve la vorrei leggere e così chiudiamo con questa vostra risposta è una ragazza del quarto superiore di Piacenza come si affronta la dipendenza da social domanda semplice domanda semplice quante ore abbiamo no in 30 secondi come si affronta la dipendenza da social dipende cosa vuol dire la dipendenza da social diventa preoccupante quando la nostra identità una parte della nostra identità si struttura sui social adesso per esempio va molto di moda pur di essere social pur di essere social pur di essere apprezzati socialmente online acquistare addirittura i pacchetti di follower quindi è chiaro che in questo momento risponderti alla domanda è difficile è complesso perché la dipendenza da social è un po' come la dipendenza dal gioco se mi limita tanto nella vita io non esco più inizio a usare solo quello in maniera esclusiva diventa una compulsione come si fa? per uscirne bisogna capire cosa si nasconde dietro perché la dipendenza qualunque dipendenza è un sintomo è una sorta di sintomo che nasconde altro quindi ci serve a qualcosa dobbiamo capire a cosa ti serve magari perché sei timide magari perché sei in difficoltà nelle relazioni faccia a faccia e quindi qui potrebbe essere il momento dove uno può chiedere aiuto per imparare a costruire delle relazioni sane per uscire un po' dalla nostra dall'introversione che abbiamo però ripeto ricordatevi quello che vi dico perché secondo me è essenziale e fondamentale la dipendenza è un sintomo quindi provate a capire a cosa vi serve io vi ringrazio tantissimo per il vostro intervento Massimiliano Secchi anche loro lo potete Massimiliano lo potete trovare online ovunque chiaramente e Giuseppe Lavenia grazie per il vostro intervento e anche a voi insomma diciamo che speriamo di vedervi e di abbracciarvi presto qui in comunità grazie grazie ancora ora